Amici di TecnaDroid.it benvenuti in questo nuovo video dove andremo a scoprire lei. È una Power Station davvero interessante, precisamente il modello AC200P e devo dire che è diventata la mia unità principale per l'accumulo del fotovoltaico ma questo lo scopriamo subito dopo la posizione iniziale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, prima di addentrarci in una recensione vera e propria vi voglio spiegare cosa sono le Power Station. Sono degli accumulatori di energia. Al loro interno accumulano energia grazie a delle batterie che possono essere a litio oppure quelle a litio ferro cospato che sono le Lifebook 4 che sono proprio quelle contenute qui all'interno e sono in grado di accumulare energia gratuita e limitata. Perché gratuita? Collegandola a dei pannelli solari che andremo a avere successivamente si mette energia gratuita all'interno di esse e la si sfrutta successivamente. Esistono anche dei pannelli solari che possono essere portati sempre con noi quindi facilmente trasportabili a differenza di un generatore termico che può essere benzina, diesel. GPL non producono rumore, non si consuma benzina e soprattutto l'odore e non si inquina. Molti mi diranno sì ma le batterie inquinano lo stesso. Pensate questa cosa tra dieci anni perché le F4 durano oltre dieci anni con cieli di carica e scarica continua questo è lo smaltimento lo si farà magari non tra dieci addirittura tra venti perché perde il 70% ma queste sono tutte cose che vedremo successivamente e la tecnologia sarà arrivata magari tra veramente 15-20 anni a poterle smaltire in modo pulito e sicuro addirittura facendo un riciclo delle stesse. Ora andiamo a analizzare cosa c'è nella confezione. C'è il cavo di alimentazione che purtroppo non va diretto alla nostra Power Station perché abbiamo un alimentatore che avevamo gli altri cavi vi faccio vedere tra poco abbiamo un alimentatore di rete scelta poco azzeccata dalla Bluetti perché l'alimentatore bisogna collegarlo a questo e bisogna portarlo sempre con noi se vogliamo ricaricarlo a meno che lo sfruttiamo con i pannelli solari. Io personalmente guardate ancora è incattato perché l'ho utilizzato principalmente con i pannelli solari quindi non mi è servito. Però nelle Power Station di ultima generazione questo è integrato interno direttamente dalla batteria. Forse la scelta dei Bluetti nel creare una cosa del genere per risparmiare spazio quindi e non doverlo integrare direttamente all'interno. Però a me questa cosa non mi è piaciuta moltissimo. Poi sempre nella confezione troviamo il cavo, questo qui che vedete, con il connettore che va collegato all'altro connettore dove ci sono i connettori MC4 che sono quelli classici del fotovoltaico. Lo si collega direttamente al fotovoltaico e si inizia a produrre energia che verrà immagazzinata all'interno. Sempre nella confezione troviamo la presa accendi sigari per l'automobile poi un piccolo manuale di utilizzo, una borsettina carina per trasportare tutto non c'entra l'alimentatore quindi l'alimentatore lo dovete portare a parte solamente i cavi. Adesso andiamo a scoprirla soprattutto nella parte frontale troviamo il tasto di accensione e spegnimento fatto in alluminio molto molto comodo con una ghiera, non so se riuscite a vederla colorata che ci indica lo status della nostra unità. Sempre nella parte anteriore troviamo la presa accendi sigari da 12V con un massimo di 10A è la classica che utilizziamo anche nell'automobile che cosa serve per alimentare un frigorifero magari di quelli portatici e gli elettrici oppure un compressore per l'auto o tutti quegli accessori compatibili. Nella parte di destra ci sono due prese sugo da 2kW ciascuna che hanno un picco a 4kW e 8 significa che se andiamo a collegare un'unica unità che sumerà 2kW su una delle due prese questa reggerà fino a 4kW e 8 quindi è molto molto interessante soprattutto l'invertere che è stato inserito all'interno di cui parleremo tra poco. Nella parte bassa un'altra presa in questo caso sono due prese in uscita da 12V 3A dove possiamo collegare un computer o altro con tutti quegli accessori compatibili poi una Type-C da 60W peccato che non c'è la 100W e due porte USB 5V da 3A stessa cosa sulla destra altri due porte 5V 3A sulla parte di sinistra troviamo la ventola di raffreddamento che non è per niente rumorosa anche durante gli utilizzi più intensi parte bassa due connettori e questo precisamente è quello per i pannelli fotovoltaici che può prelevare al massimo 35-150V e 12A quindi ricordatevi di non collegare magari un voltaggio molto più alto altrimenti rischiate di bruciare la nostra Power Station lo stesso connettore ci permette di ricaricare l'unità con la nostra auto prelevando 12-30V massimo e 2A vi ricordo che le automobili erano generalmente 12V e arrivano fino a un massimo di 14V nella parte di destra c'è l'input per l'alimentatore di rete che vi ho fatto vedere in precedenza quindi un 58.6V con 500W massimi di potenza nella parte invece di destra c'è un altro foro con un'altra ventola una quella di sinistra è di immissione mentre quella di destra è di estrazione dell'aria prendiamo il nostro cavo lo colleghiamo in questo modo lateralmente così l'ho agganciato e questi sono i due connettori prima di andare a collegare i connettori del fotovoltaico vi voglio far vedere che effettivamente il fotovoltaico sta producendo e quante volts sta producendo quindi andiamo a collegare in questo modo il nostro multimetro eccolo qui stiamo producendo 45,60V quindi adesso noi prendiamo i due connettori e andiamo a connetterli direttamente alla bluetti in questo modo eccolo qui e andiamo a vedere che cosa succede sul display display retroilluminato e completamente da società tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno nella parte alta ci sono i pannelli fotovoltaici con varie informazioni quindi il voltaggio che è 42.6 in linea con quello misurato in precedenza input corrente di 11.9 i watt 506 adesso si sono abbassati perché oggi purtroppo è una giornata molto nuvolosa non abbiamo tantissima energia l'energia generata pari a 0,10 kilowatt ora e la CO2 tornando indietro abbiamo le informazioni sulle porte Type-C USB tutto quello che è a corrente continua io adesso non lo vedete ma sto collegando e il mio S23 direttamente ADC Output e Type-C da 60W e sto prelevando 8W queste sono tutte le voci relative alle varie porte ogni volta andiamo a collegare un dispositivo questo ci darà effettivamente quanto stiamo prelevando dalla nostra power station invece nella parte di qui abbiamo la C Output pari a 230V andando ad accendere il nostro iPhone abbiamo anche i consumi in tempo reale quindi pari a 1196W con 50Hz di uscita è un Output 5.2 vi ricordo che l'inverter è a onda pura quindi va a sfruttare la stessa identica energia che ne sfrutta anche la vostra rete domestica tornando indietro qui ci sono le varie informazioni se stiamo ricaricando la nostra power station sfruttando l'ADC quindi la corrente continua all'alimentatore di rete attraverso le impostazioni ci sono per esempio la frequenza 50-60Hz l'ADC Input Search che è pannelli solari oppure quella della macchina l'Eco Mode se attivare o disattivarlo e la lingua disponibile solamente inglese e tedesco andando avanti possiamo andare ad impostare l'orario la data e niente più tornando indietro nelle impostazioni sempre attraverso questo menu si andrà a vedere i dati quindi le informazioni sul prodotto il numero di serie la protezione BMS e tutti i log relativi alla nostra power station è interessante qui in alto notare che ci sono informazioni sulla temperatura pari a 41 gradi qui in basso invece ci sono le indicazioni di errore se durante la produzione di energia appunto l'emissione di energia nei nostri elettromestici ci dovesse essere un guasto qua ci viene immediatamente segnalato guardate quante voci sono davvero molto sicura è molto interessante parliamo ora invece di sicurezza all'interno abbiamo la protezione BMS è una protezione che sta venendo immessa in tantissime power station a che cosa serve a proteggere le elettromestici collegate da possibili sovrattenzioni cortocircuiti sovralimentazioni possibili guasti o incendi è veramente una protezione in più che migliora la sicurezza e l'unità di chi la utilizza ma parlando di carichi pesanti non può mancare il mio test di ricarica della mia cupra formentor plug-in andiamo a collegare il caricatore in questo modo ok eccolo qui è della daular io utilizzo sempre questo perché è l'unico che funziona senza la messa a terra abbiamo fatto la recensione in passato prendiamo la nostra porta type 2 andiamo a collegarla direttamente all'automobile in questo modo e siamo correttamente in ricarica connessa correttamente alla nostra automobile stiamo prelevando un kilowatt e quattro dalla nostra stazione di ricarica tornando all'interno ci indica il corretto funzionamento della ricarica e la ricarica completa in circa 6 ore 25 calcoliamo stiamo ricaricando la nostra auto con i pannelli fotovoltaici quindi spendendo veramente zero proviamo ora a mandare in blocco invece la bluetti andando a collegare un fono in questo modo mi ricordo che stiamo erogando un kilowatt e quattro la nostra auto andiamo a accendere il fono e vediamo quanto sofforta eccolo già è saltato il tutto andiamo a vedere cosa ci viene mostrato sul display errore scorrendo tra i vari errori è possibile andare a vedere in v overload cosa significa stiamo consumando più watt di quelli erogabili direttamente dall'inverterio quindi una power station veramente sicura lo ripeto nuovamente ci possiamo alimentare un bollitore d'acqua oppure un forno un forno o magari posso utilizzarlo per caricare i miei due telefoni più lavorare al computer mentre accendo il mio tostapane e mi faccio un bellissimo toast siamo arrivati alla conclusione di questa video recensione non vi ho parlato del batterio contenuto all'interno che sono nell'iPhone 4 perché faremo un video a parte con una batteria molto particolare non vi spoilerò altro quindi mi iscriverete al canale per non perdervela ma vi do un breve accenno lei monta il batterio ferrofosfato in grado di resistere ben 3500 cili carica e scarica facendo un calcolo rapido 365 giorni l'anno stiamo a oltre 10 anni prima di perdere circa il 20% della capienza massia quindi di passare dal 100% all'80% non la buttate ma non ti va ad utilizzarla ma veramente chi è che fa tutti i giorni i cicli carica e scarica con una batteria del genere solamente se la autorizzate come sistema di accumulo andate a sfruttare l'energia la notte un pochettino come sto facendo io però di 10 anni mi siete ripagati l'investimento perché vi ricordo che è una batteria che troviamo in commercio circa 1100 1200 euro nel momento in cui stiamo facendo questa recensione e note positive e note negative note positive è che abbiamo un sistema da 2000 watt collegando un elettrodomestico da 1000 watt siamo in grado di supportarlo per circa due ore e così via quindi il calcolo è molto semplice da fare è dotato di tantissimi sistemi di sicurezza e come vi ho detto in precedenza è molto leggera per essere una power station di queste dimensioni di questa capienza il prezzo è veramente competitivo molto molto completa a mio avviso è più che una power station sistema di accumulo perché veramente lo potete sfruttare anche magari su un camper pannelli fotovoltaici sistema di accumulo sotto avete energia illimitata gratuita note negative già ve l'ho detto l'alimentatore una scocciatura lo potete portare con voi però lo potete escludere se utilizzate il fotovoltaico un'altra nota negativa è la mancanza dell'applicazione per controllarla in remoto quindi non avete né wifi né bluetooth per il resto non ci sono altre note negative che ho riscontrato anzi la modalità eco vi consente di spegnere tutto il sistema in modo molto sicuro se questa recensione vi è piaciuta lasciami un bel like poi a voi non costa nulla noi date una grandissima mano da iscrivervi al canale immaginate se tutti quelli che guardassero i nostri video e mettessero iscriviti al canale saremo più di 2 milioni ciao a tutti e arrivederci al prossimo video da Mario